Un'importante azione di controllo lungo le aree costiere sulla Litorane è quello che è stato messo in atto ad Eboli dagli agenti della Polizia Municipale dei Carabinieri, sindicazione del sindaco Massimo Carierlo e coordinata dal consigliere delegato Giuseppe Labrocca. Sono state così elevate sanzioni per circa 10.000 euro, mentre sono state 7 le persone denunciate, tra cui due giovani che sono stati ritenuti responsabili di aver rubato un ciclomotore. Tra i comportamenti illeciti rilevati si contano mancata assicurazione, guida con patente sospesa, mancata revisione, assenza di documenti, uso del telefonino durante la guida, sorpasso di linea continua e non uso. Ritirate pure quattro patenti per guida in stadio di abbrezza ed una perché è conseguita in Ucraina, ma non convertita.